Box sotto le stelle 2005 e oggi siamo ormai alla sedicesima edizione, stiamo lavorando molto bene con il comune di Biella, con tutti gli organi e Box sotto le stelle rappresenta la box per Biella perché in questo momento c'è bisogno di una ripresa e l'anno scorso abbiamo già avuto un'ottima ripresa con Box sotto le stelle dopo tre anni di assenza da Biella al piazzo e quest'anno vogliamo riproporla in maniera ancora più importante e ancora più coinvolgente visto che avremo una decina di ragazzi di Biella che combatteranno e addirittura avremo per questa edizione di Box sotto le stelle due o tre partecipanti stiamo definendo del continente come dicono quindi della Sardegna, avremo uno scambio, noi li ospitiamo adesso il 17 luglio e molto probabilmente a settembre loro ci ospiteranno addirittura a Porto Rotondo quindi non sarà la cornice del piazzo sarà un po' differente ma cercheremo di dare a loro l'ospitalità che abbiamo sempre dato. Ci saranno anche altre squadre della Liguria, ci sarà Piemonte e probabilmente l'Emilia Romagna quindi sarà un interregionale molto interessante con ripeto i nostri atleti di punta e non di punta perché ci saranno anche atleti con pochissimi match a gareggiare per dare la possibilità appunto di riuscire ad avere più match anche da parte loro. Quindi ragazzi vi aspettiamo tutti a Box sotto le stelle sedicesima edizione sabato 17 luglio dalle ore 20 e 30 e gareggeranno i nostri atleti diciamo che avremo dagli atleti che esordiranno a degli atleti che ormai saranno prossimi dal professionismo come Alberto Pinna in categoria 57 kg farà il suo 56esimo match anche lui fermo da un po' ma riprenderà per poi dare uno sguardo al professionismo.